Il regenerative building è un edificio che contribuisce all'ecosistema e al benessere dell'utente. Questo vuol dire riformulare l'edificio che diventa produttore di energia. Dall'altra parte vuol dire più attenzione alla circular economy, quindi il fatto di utilizzare materiali che nel lungo periodo potranno essere riutilizzati aumentandone il valore. In ultimo c'è l'aspetto del benessere degli occupanti che non è soltanto un benessere visivo, termico, acustico ma è anche di contatto con l'ecosistema e con l'esterno.